Oggi, grazie alle nuove tecniche di biologia molecolare applicate nel campo della fecondazione in vitro, noi siamo in grado non solo di raggiungere le più alte percentuali di successo rispetto al passato, ma soprattutto di assicurare alla coppia la nascita di un bambino perfettamente sano, con un numero di cromosomi normali. Questa tecnica si chiama diagnosi genetica preimpianto. È una tecnica che consiste nel verificare l'assetto cromosomico negli embrioni, ossia di vedere lo stato di salute dell'embrione, di vedere particolarmente se l'embrione è sano o malato. Infatti, recentemente si è scoperto che gli embrioni si impiantano non grazie alle loro caratteristiche morfologiche, ma in base alle loro caratteristiche genetiche. Quindi, scovare un embrione sano nella coppia che si sottopone a fecondazione assistita ci permette di raggiungere altissime percentuali di successo trasferendo un unico embrione, quindi avendo una percentuale di gemellarità inferiore al 4%, quindi di avere sempre una condizione più naturale. La tecnica è sempre la tecnica della fecondazione in vitro, in cui però gli embrioni vengono tutti coltivati, grazie a speciali incubatori metabolici, allo stadio di blastocisti. Allo stadio di blastocisti viene quindi effettuata una biopsia dello strato esterno della blastocisti stessa, che è quello che darà origine alla placenta, quindi senza compromettere assolutamente la capacità di impianto dell'embrione, perché le cellule non vengono prelevate proprio dall'embrione, ma da uno strato che ha cellule simili a quelle embrionari, e dopo 15 giorni noi siamo in grado di sapere se l'embrione è sana o malato. Dopodiché gli embrioni vengono congelati e trasferiti uno o due mesi dopo, appena la donna avrà smaltito gli effetti della stimolazione, perché oggi si è scoperto che gli embrioni si impiantano maggiormente quando la donna non è in fase di stimolazione.